Droga, due diciannovenni di Sciacca sono finiti agli arresti domiciliari con l'accusa di detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti di polizia li hanno trovati in possesso di alcuni quantitativi di hashish. Rifiuti, Crocetta presenta in giunta il piano per la realizzazione degli inceneritori, anche se il governatore preferisce chiamarli valorizzatori. Uno è destinato a Sciacca, frena però l'assessore Cracolici invocando approfondimenti. Le intenzioni di Crocetta e Gucciardi sono chiare, le rassicurazioni sono solo aria fritta, così i grillini oggi si rivolgono a PD e Sciacca Democratica che ieri hanno accusato il Movimento 5 Stelle di strumentalizzare il dibattito sulla rete ospedaliera. Strade rurali, ci sarà tempo dal 1 novembre al 20 dicembre per presentare i progetti relativi alla realizzazione o alla sistemazione delle strade di campagna. A partecipare al bando potranno essere sia gli agricoltori, sia i comuni. Scuola, sono notevoli ritardi nell'assegnazione provvisore delle cattedre. Ci sarebbero anche disparità di trattamento per quanto concerne le grado autori ad esaurimento dei docenti. E questa è la denuncia della Will Scuola Grigientina. Eventi al via stasera a Sciacca, la festa di San Michele. Il programma è ridimensionato rispetto agli altri anni e si realizzerà grazie alla collaborazione di artisti e compagnie teatrali locali. Festa che chiude gli eventi estivi a Sciacca. Un cordiale saluto ben trovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. La cronaca oggi in apertura. Due giovani di 19 anni di Sciacca sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due sono stati fermati mentre transitavano in pieno centro a bordo di una bici elettrica. Addosso avevano due tavolette di ascisce e ulteriori sette pezzi di sostanza stupefacente di varia pesatura. Per i particolari seguiamo il servizio di Massimo D'Antonio. Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E' questa l'accusa a carico di due 19enni, Salvatore Gregory Caracappa e Lorenzo Colletti, finiti nei guai oggi agli arresti domiciliari. Una volante della Polizia di Stato li ha incrociati nel centro cittadino di Sciacca. Erano a bordo di una bici elettrica. Gli agenti li hanno dunque fermati per un controllo trovandoli in possesso di una tavoletta di hashish, poco prima nascosta all'interno degli slip di uno dei due, e di un astuccio nero dentro al quale c'erano un trince a tabacco di legno e tre pacchetti di sigarette con all'interno ulteriori sette pezzi di hashish, tutti di vario peso. I due giovani sono dunque stati accompagnati nella sede del commissariato di pubblica sicurezza per un'ulteriore ancora più accurata perquisizione personale che ha permesso agli agenti di individuare una seconda tavoletta di hashish. Per completezza d'indagine, gli agenti agli ordini del dirigente Ruggero hanno effettuato anche la perquisizione domiciliare presso le dimore dei due. In questo caso, però, non hanno trovato nulla. La Polizia ha operato gli arresti in flagranza di reato. L'autorità giudiziaria di Sciacca ha disposto per loro i domiciliari. I provvedimenti nei confronti dei due diciannovenni sacensi si inquadrano nell'ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, servizio che la Polizia di Stato ha intensificato soprattutto all'apertura del nuovo anno scolastico. Un problema è quello della diffusione della droga sul territorio che più in generale si conferma essere al centro dell'attenzione in un territorio dove le cronache periodicamente rivelano scenari sempre più preoccupanti e pericolosi, scenari che coinvolgono giovani, come nel caso degli arresti delle ultime ore, perfino giovanissimi. Nei giorni scorsi un 24enne è stato bloccato a Ribera alla fermata dell'autobus proveniente da Palermo con addosso altra sostanza stupefacente. Insomma, le forze dell'ordine sono sempre particolarmente attente a mettere a punto servizi sia ordinari sia straordinari di controllo che spesso portano a risultati importanti. Giovani e giovanissimi dunque da tutelare e in diversi casi sono anche gli adolescenti minorenni soggetti più a rischio alle prese con le prime esperienze anche rispetto al problema dell'assunzione di stupefacenti e questo richiama alla mente il problema delle famiglie alle prese oggi con tante necessità tra le quali c'è però sicuramente anche quella del bisogno di un ruolo di superiore attenzione nei confronti dei propri ragazzi. Cambiamo argomento termovalorizzatori. Il piano presentato in giunta dal presidente Crocetta è stato momentaneamente bloccato. È una parte del PD, quello rappresentato dall'assessore Cracolici, a volere meglio approfondire la vicenda. Il governatore intanto non vuol sentir parlare di termovalorizzatori o inceneritori e preferisce definirli degli impianti per la valorizzazione dei rifiuti. Il servizio di Maria Genuarti. Si blocca per l'opposizione dell'assessore del PD Antonello Cracolici il piano stralcio sui rifiuti presentato ieri in giunta dal governatore Rosario Crocetta. È quello che prevede la realizzazione in Sicilia dei termovalorizzatori, anche se Crocetta non li definisce in tal modo, ma parla di impianti innovativi per la valorizzazione dei rifiuti e a zero impatto ambientale. La loro realizzazione dovrebbe permettere di smaltire all'incirca 700.000 tonnellate che corrispondono ad un terzo dei rifiuti prodotti annualmente in Sicilia. Il Dipartimento Rifiuti, dopo l'approvazione del piano, pubblicherà un bando per la manifestazione di interesse in project financing per la realizzazione e la gestione dell'impiantistica. I progetti verranno valutati sulla base della loro compatibilità ambientale, in considerazione del fatto che i livelli di emissione devono essere il 70% in meno rispetto a quelli indicati dalla normativa europea e sulla base della loro convenienza economica. Nel piano vengono poi indicati i siti compatibili per l'installazione di tali impianti. Il comunicato della Presidenza della Regione evidenzia che saranno lontani dai centi abitati e di piccola capacità. I due più grandi, da 200 tonnellate ciascuno, dovrebbero sorgere nelle città di Catania e Palermo. Le restanti 300 tonnellate saranno smaltite negli impianti più piccoli che saranno realizzati nel resto dell'isola. Tra i siti individuati c'è Sciacca perché il principio portato avanti dal Dipartimento Regionale dei Rifiuti è quello di collocare questi impianti in aree dove già insistono delle discariche. Nonostante il Presidente della Regione parli di impianti di valorizzazione dei rifiuti e non di termovalorizzatori o inceneritori, il piano non è stato approvato ieri in giunta per l'esigenza posta dall'esponente del Partito Democratico di approfondirne meglio i vari aspetti. Sia Crocetta sia l'assessore contraffatto però intendono dare un'accelerata per arrivare già ai primi di novembre alla pubblicazione dei bandi per l'individuazione delle società che dovrebbero realizzare queste strutture. Sanità sul nuovo piano di riorganizzazione della rete ospedaliera continua la polemica tra PD e Sciacca Democratica da una parte e Movimento 5 Stelle dall'altra. Oggi è l'Assemblea dei Grillini a replicare alla nota di ieri di Partito Democratico e Sciacca Democratica accusati di continuare a chiamare il piano sanitario documento metodologico per opportunismo politico per conclamata miopia. Le intenzioni di Crocetta e Gucciardi sono chiare, le rassicurazioni verbali restano aria fritta, dice il Movimento 5 Stelle. E nel dibattito sulla sanità interviene sempre oggi il consigliere comunale del nuovo centrodestra Giuseppe Migliotti. Sentiamo. Continuare a definire il piano sanitario regionale documento metodologico significa negare l'evidenza dei fatti, o per opportunismo politico o per conclamata miopia. I fatti ci dicono chiaramente quali sono le intenzioni del presidente Crocetta e dell'assessore Gucciardi rispetto all'ospedale di Sciacca. Non si è fatta attendere la replica del Movimento 5 Stelle alle osservazioni di ieri di PD e Sciacca Democratica, forze politiche accusate dall'Assemblea dei Grillini di nascondersi dietro a giochi di parole e di non chiamare le cose con il loro nome. La polemica politica dunque continua tra forze che ritengono che il piano sia solo una bozza e forze che invece ritengono che sia un piano a tutti gli effetti e che tutto sia stato ormai deciso. Le rassicurazioni verbali restano aria fritta dinanzi ad un documento che metodologicamente relega l'ospedale di Sciacca struttura di base, osservano i Grillini. Tutto ciò continuano mentre si mantengono come Spock la struttura di Agrigento che è la città di Angelino Alfano, la struttura di Salemi che è la città dell'assessore Gucciardi e la struttura di Gela che è la città del presidente Crocetta affiancata a quella di Mazzarino e Niscemi. La verità per il Movimento 5 Stelle è che la gestione della sanità in Sicilia è ormai legata a interessi politici che nulla hanno a che vedere con le reali esigenze dei territori e soprattutto dei cittadini. Ed ancora, accusare Matteo Mangiacavallo e il Movimento 5 Stelle di sciacallaggio politico è un tentativo maldestro, privo di alcun fondamento. Il PD e Sciacca Democratica, si legge ancora nella nota dei 5 Stelle, insieme a tutte le forze politiche che oggi sono maggioranza di governo alla Regione, continuino pure a lavorare in silenzio come loro stessi hanno sottolineato qualche giorno fa. E così facendo, nessuno li sentirà e affari spenti continueranno a non vedere nulla, aspettando solamente che la bozza di piano sanitario diventi definitiva e venga poi sottoposta a sindaci e sindacati per mera presa d'atto. Noi riteniamo invece, conclude l'Assemblea del Movimento 5 Stelle, che la cittadinanza vada informata subito e che vada organizzata una mobilitazione generale a difesa della sanità saccenze. Di polemiche inutili su una questione così delicata ed importante parla oggi il consigliere comunale del nuovo centrodestra Giuseppe Miglioti, a giudizio del quale occorrerebbe invece avviare una seria concertazione tra tutte le forze politiche, evitando strumentalizzazioni. Miglioti, nel sollecitare il sindaco ad affrontare la questione durante la prossima seduta del Consiglio Comunale, propone al Consiglio di adottare un documento unitario da trasmettere al Governo regionale e al Ministro della Salute, in cui vengano messe in evidenza le ragioni per le quali l'ospedale di Sciacca non può e non deve subire alcun declassamento, avendo viceversa tutte le carte in regola per essere classificato come ospedale di primo livello. Se non si raggiungerà tale obiettivo, conclude Miglioti, sarà il fallimento della politica a tutti i livelli. Al via i lavori di riqualificazione del quartiere Marina, una serie di opere che consentiranno di collegare il centro storico all'area portuale attraverso un percorso pedonale. Si tratta di un corposo intervento di riqualificazione che si realizza con fondi circa 2 milioni 200 mila euro ricavati dalla rimodulazione delle risorse del patto territoriale Terresicane. Cantiere già aperto in via Eleonora d'Aragona. Vediamo. Apre il cantiere per la realizzazione delle opere previste nel progetto di riqualificazione urbana e miglioramento della qualità della vita del quartiere Marina. Si tratta di quelle opere che andranno a riqualificare e valorizzare un'ampia zona del quartiere della Marina, recuperando scalinate, vicoli e piazze antiche di grande interesse turistico, congiungendo così la parte del centro storico già riqualificata con l'area portuale. Interventi sono previsti in vicolo grande caricatore, vicolo secondo grande caricatore, vicolo porta di mare, discesa Campidoglio e piazza Campidoglio. Il progetto prevede rifacimento delle pavimentazioni e dei sottoservizi e la realizzazione di impianti di illuminazione. I fondi per un importo complessivo pari a 2 milioni 155 mila euro sono stati ricavati dalla rimodulazione delle risorse del patto territoriale Terresicane. L'amministrazione comunale di Sciacca ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico l'autorizzazione per utilizzare i soldi per riqualificare la Marina. Lo scorso anno l'approvazione in giunta del progetto esecutivo, dopo l'arrivo del decreto ministeriale, la trasmissione di tutti gli atti all'urega di Agrigento per la gara d'appalto. Il primo intervento di riqualificazione è previsto nella parte sottostante il quartiere della Marina, in vicolo secondo grande caricatore, che interesserà la scalinata ZigZag. La consegna dei lavori all'impresa che si è giudicata all'appalto, la Geotec SRL di Agrigento, è avvenuta lo scorso mese di luglio, dopo l'aggiudicazione della gara avvenuta a maggio. L'impresa sistemerà mezzi e materiali in una parte di via Eleonora d'Aragona, che sarà riservata proprio a tale scopo. La Polizia Municipale ha già predisposto un'ordinanza e collocato i divieti di sosta nell'area di cantiere. Sarà garantito il parcheggio lungo la strada che va dalla discesa sottostante piazza Mariano Rossi fino alla scalinata che sale per piazza Scandaliato, mentre sarà assicurata la viabilità in tutta la via Eleonora d'Aragona. Si asfalta il viale delle Terme nel tratto dove è stato realizzato lo scavo per il collegamento in pubblica affognatura delle Terme di Sciacca. L'intervento è previsto per lunedì prossimo 3 ottobre. La sezione viabilità della Polizia Municipale ha predisposto un provvedimento per consentire all'impresa di effettuare i lavori. Lunedì mattina, pertanto, la corsia esterna del viale sarà chiusa al traffico veicolare. Fino al termine dell'intervento, le auto provenienti da via Ghiezzi all'incrocio con il viale delle Terme dovranno proseguire per via Figuli. Le auto e gli autobus provenienti da via Gatocle, invece, potranno regolarmente scendere e uscire dal viale delle Terme, imboccando la corsia interna che rimarrà aperta al traffico veicolare con senso inverso rispetto al solito. I lavori sono realizzati nell'ambito del progetto per la realizzazione delle opere per la separazione delle acque sulfure dalle acque nere delle unità produttive presenti all'interno del Parco delle Terme e successivo allaccio al collettore fognario esistente, redatto dal Genio Civile di Agrigento e finanziato dalla Regione Siciliana. Strade rurali. Ci sarà tempo dal 1 novembre al 20 dicembre 2016 per presentare i progetti relativi alla realizzazione o alla sistemazione delle strade di campagna. A partecipare al bando potranno essere gli agricoltori singolarmente o in forma associata e i comuni e le amministrazioni comunali di Sciacca, Ribere e Castelvetrano sono già al lavoro. Il servizio di Maria Luisa Sant'Angelo. Strade rurali. Dopo l'annuncio nei giorni scorsi dell'assessore regionale all'agricoltura Antonello Cracolici del bando per la realizzazione, la ristrutturazione e la messa in sicurezza delle strade rurali, bando da 34 milioni di euro nell'ambito del nuovo PSR 2014-2020, le amministrazioni locali sono al lavoro. Le domande di partecipazione al bando potranno essere presentate dal 1 novembre al 20 dicembre prossimi. C'è quindi un mese per preparare relativi progetti da presentare e candidare ai finanziamenti. Un bando atteso da anni, soprattutto dalle amministrazioni comunali, che ad oggi hanno potuto inseguire le emergenze a destinare alla viabilità rurale solo modesti investimenti con l'accensione di mutui. Da anni non si realizzano dunque interventi importanti e la situazione nelle strade di campagna è sotto gli occhi di tutti. Al lavoro gli uffici comunali di Sciacca, dichiarano oggi l'assessore all'agricoltura Silvio Caracappa, che con l'assessore ai lavori pubblici Ignazio Bivona hanno già attivato le procedure per la stesura dei progetti. È indispensabile in questa fase, dichiara al nostro Tg l'assessore Caracappa, che gli uffici lavorino da qui ai prossimi 30 giorni senza sosta per la predisposizione dei progetti e di tutti i documenti necessari. E nell'ottica di non farsi trovare impreparati, Caracappa annuncia che nei prossimi giorni incontrerà le associazioni di categoria per coinvolgerne l'individuazione delle emergenze delle strade rurali di Sciacca, dal momento che al bando possono partecipare anche gli agricoltori in forma singola o associata. Al lavoro anche gli uffici di Castelvetrano, l'assessore all'agricoltura Paolo Calcara annuncia oggi che sono già state individuate le strade per le quali chiedere il finanziamento, mentre per le strade interpoderali è necessario che gli agricoltori si riuniscano in apposita associazione di scopo. A Ribera è il consigliere comunale Emanuele Livoti ad accendere riflettori sulla vicenda, invitando l'amministrazione a non farsi scappare questa opportunità. Sullo sfondo c'è l'emergenza delle strade rurali a Ribera che da decenni non vengono sistemate, in alcuni casi non sono nemmeno mai state realizzate. Consigliere Livoti che rimarca la mancata approvazione della proposta dell'opposizione di destinare 100.000 euro del bilancio proprio alla viabilità rurale. E a stretto giro di posta in mattinata arriva la risposta dell'assessore al ramo Antonino Firetto, il quale dichiara oggi di avere già attivato il gruppo di lavoro e coinvolto gli uffici per la partecipazione al bando. In merito alla proposta di variazione al bilancio presentata dalla minoranza, l'assessore Firetto aggiunge che a ritenere inammissibile la proposta per mancanza di fondi è stato il ragioniere responsabile del Comune e non l'amministrazione. Abbandono di rifiuti nelle località balneari di Ribera, nonostante sia stato già avviato il servizio di raccolta porta a porta. Per contrastare il fenomeno, l'amministrazione comunale di Ribera ha deciso di attivare immediatamente il servizio di vigilanza con l'ausilio di telecamere e saranno inflitte sanzioni pecuniarie. Il guasto ad una tubatura idrica incontrata a Isabella viene oggi segnalata da un nostro telespettatore. Il disservizio viene registrato in via delle Primule. Il guasto è stato segnalato lo scorso 28 agosto, ma fino ad oggi i girgenti acque non hanno messo in atto alcun intervento manutentivo. La perdita idrica compromette la stabilità della sede stradale, la sicurezza soprattutto per i conducenti di ciclomotori. La giunta municipale di Sciacca ha deliberato una nuova anticipazione di somme con fondi comunali per il rimborso delle spese per il carburante a sostegno delle famiglie beneficiarie che affrontano il disagio di accompagnare i propri figli a fare terapia nei centri di riabilitazione fuori città. E quanto comunicano il sindaco Fabrizio Di Paolo e l'assessore alle politiche sociali David Emmi, si tratta, spiegano, di un importo complessivo di circa 21.585 euro, quale contributo da erogare alle famiglie per le spese sostenute nel terzo trimestre del 2015. La giunta comunale ha autorizzato il dirigente del terzo settore del Comune ad anticipare la somma in attesa che l'assessorato regionale alla famiglia, politiche sociali e lavoro, accrediti il finanziamento della seconda annualità del progetto triennale previsto nel piano di zona del distretto sociosanitario 2013-2015. La somma, una volta accreditata, sarà poi reintegrata nel bilancio comunale. Notevoli ritardi nell'assegnazione provvisoria delle cattedre, disparità di trattamento per quanto concerne le graduatorie ad esaurimento dei docenti e quanto denuncia oggi il sindacato Will di Agrigento, sottolineando i problemi di personale con cui devono fare conto gli istituti scolastici provinciali. Il servizio di Calogero parla piano. Ancora ritardi sulla utilizzazione e l'assegnazione provvisoria del personale della scuola. Questo quanto denuncia oggi il sindacato Will di Agrigento, tramite i referenti Gero Acquisto e Lillo Burgio. In provincia di Agrigento ci sarebbero ancora moltissime cattedre scoperte, segno che, come al solito, l'anno scolastico è iniziato con i soliti ritardi e inceppi burocratici. Scrivono Acquisto e Burgio. Per quanto riguarda la problematica ancora oggi non risolta del personale della scuola di ogni ordine e grado, inerente l'utilizzazione e l'assegnazione provvisoria delle cattedre, che rende sempre più difficoltoso un funzionale e regolare svolgimento delle lezioni per gli allievi nell'Agrigentino, siamo ancora in alto mare. Queste operazioni dovevano concludersi entro il 31 agosto. Invece, questi ritardi hanno già sfalsato il normale svolgimento delle lezioni. La legge cosiddetta buona scuola, come abbiamo sostenuto, presentava delle falle che oggi sono venute fuori. È vero che il personale del provveditorato ha lavorato a lacremente anche nei mesi estivi per smaltire le assegnazioni del personale, ma ancora queste procedure non sono state concluse, arrecando danno per gli allievi e un vero valzer delle cattedre, con disagi che si spera, possano concludersi nel più breve tempo possibile. La Will provinciale poi si sofferma anche su un altro problema, ossia quello delle gradatorie ad esaurimento, questione che sta a cuore ovviamente a tantissimi altri possibili lavoratori del mondo della scuola. Le graduatorie ad esaurimento, scrive sempre la Will, stanno mettendo in ambasce numerosi ricorrenti inseriti con riserva in queste graduatorie. Infatti, in alcuni provveditorati, se questo personale è in posizione utile, gli viene conferito l'incarico di lavoro. In altri provveditorati invece no, creando una chiara disparità di trattamento da provincia a provincia. Questo lo ritorniamo lesivo e inaccettabile, perché la pubblica amministrazione non può usare due pesi e due misure. Perciò queste operazioni vanno governate e risolte con lo stesso metodo di giudizio. Gall, Valle del Belice, si è formalmente costituita ieri pomeriggio a Menfi la società cooperativa per lo sviluppo locale. L'organismo del quale fanno parte i comuni del Belice ha come obiettivo quello di intercettare nuovi finanziamenti comunitari da destinare al settore agricolo. C'è il servizio. E il sindaco di Menfi è Enzo Lotà, il presidente della società cooperativa Gall, Valle del Belice, organismo che si è costituito ieri pomeriggio nella sala biblioteca del comune, del quale fanno parte 50 soci e 12 comuni. Obiettivo è lo sviluppo del territorio. Le penaltà sono quelle di promuovere lo sviluppo nei 12 comuni e soprattutto anche nei territori dei 12 comuni, nei 12 comuni della Valle del Belice, che comprendono 6 comuni della provincia dei Trapani, 5 della provincia di Agrocento e 1 della provincia di Palermo. La penaltà è quella di coinvolgere i territori dei 12 comuni e soprattutto le aziende e le imprese e le filiere in agricoltura. Noi abbiamo già impostato il piano di sviluppo che riguardano alcune filiere agricole, soprattutto quelle vitidimicole e quella olivicola, coinvolgendo i settori della zootecnia, ma guardiamo anche al turismo rurale e soprattutto anche alla valorizzazione dei beni culturali. Sarà sicuramente un percorso esaltante perché la coesione dei 12 sindaci, la partecipazione di circa 50 imprese di tutto il territorio che vogliono scommettere e quindi anche attingere alla nuova programmazione che già sta partendo, quella del 2014, ma le 20, ci fa desperare. Sindaco, infatti, chiaramente si punta ad intercettare importanti finanziamenti comunitari anche a fronte delle esigue risorse economiche dei comuni. Sì, sicuramente perché oggi come oggi la regione siciliana non è in grado di trasferirci nessuna risorsa finanziaria per quanto riguarda gli investimenti. Mentre attraverso il GAL noi potremmo essere in grado in tutti i 12 comuni del territorio di investire e di utilizzare una risorsa finanziaria che pare a circa 7 milioni di euro. Il piano di azione locale della nuova società sarà presentato il 5 ottobre prossimo all'assessorato regionale all'agricoltura. Al via oggi la festa di San Michele nell'antico quartiere cittadino, un programma ridimensionato rispetto agli altri anni e che si realizza grazie alla collaborazione di artisti locali. Dichiara oggi al nostro telegiornale l'assessore allo spettacolo, Salvatore Monte. La festa di San Michele chiude gli eventi estivi in città e già si pensa alla programmazione delle iniziative natalizie alla prossima edizione del Carnevale. Ma sentiamo Monte da noi, intervistato. Sarà uno spettacolo teatrale ad aprire stasera i festeggiamenti in onore di San Michele nell'omonimo quartiere cittadino. Da calendario la festa del Santo è stata ieri ma si è preferito farla slittare per animare le serate del fine settimana. Un programma ridimensionato rispetto al passato come conferma al nostro telegiornale l'assessore allo spettacolo Salvatore Monte. Diciamo che quest'anno fino all'ultimo è stato un po' tutto in bilico visto le condizioni economiche che non hanno permesso di poter allestire una manifestazione per come magari si voleva. Però siccome credo che sia un quartiere che merita di essere animato soprattutto in vista della festa del suo santo patrono abbiamo comunque realizzato un piccolissimo cartellone che è figlio della collaborazione gratuita di alcuni artisti di Sciacca che si sono voluti mettere a disposizione. Quindi questa sera si inizia alle 21 con uno spettacolo teatrale della compagnia Artisti per Caso scritto e diretto da Vincenzo Maniscalco domani sera nella piazza Gerardo Noceto animazione musicale dove si potrà anche ballare e divertirsi e domenica sera Pasquale Sabella farà animazione musicale anche lui su piazza Gerardo Noceto. Quindi tutte iniziative ovviamente finalizzate a animare il quartiere di San Michele e poi domenica la processione del simulagro e dunque comunque sono delle tre occasioni per poter vivere il quartiere, stare ovviamente per essere fuori, divertirsi, ascoltare della buona musica. La festa di San Michele chiude di fatto le iniziative dell'estate e già si pensa alla programmazione delle manifestazioni natalizie e all'organizzazione dell'edizione 2017 del Carnevale di Sciacca. Tra qualche settimana intanto per tornare ad animare il centro storico potrebbero tornare le domeniche ecologiche sperimentate con successo nello scorso mese di maggio. Il Carnevale estivo era stata la manifestazione che aveva chiuso l'iniziativa in centro storico questa è comunque quella che sancisce definitivamente la fine delle manifestazioni estive. Adesso entriamo in un'altra fase che è la fase comunque di allestimento del Natale visto è considerato che inizieremo immediatamente a lavorarci e ovviamente iniziano anche le fasi di preparazione al prossimo Carnevale dunque si è nuovamente al lavoro non esiste il momento di pausa con il sindaco abbiamo anche avuto modo di pensare nuovamente alle domeniche ecologiche ci sto lavorando e spero a giorni di poter uscire il calendario e dunque di creare altri momenti di aggregazione la domenica mattina nel nostro centro storico quindi cerchiamo comunque di mantenere viva l'animazione in città visto è considerato tra le altre cose che in questo momento abbiamo grandi presenze turistiche che sono per la città e dunque bisogna offrire qualcosa. Distretto Sociosanitario 54 sono stati pubblicati oggi quattro nuovi ponne inclusione ad affermarlo il sindaco di Castelvetrano Felice Errante gli avvisi sono rivolti alle realtà sociali del territorio in particolar modo cooperative da associazioni che si occupano di servizi ai diversamente abili o per le cosiddette fasce sociali più deboli. Domani sera alle ore 19 lo storico palazzo Pignatelli di Menfi sarà illuminato di rosa in occasione della campagna di sensibilizzazione nastro rosa promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori 100 palloncini colorati saranno lanciati in volo e sono previste anche musiche e danze in tema con la manifestazione obiettivo sensibilizzare per la prevenzione contro il tumore al seno testimonial della campagna di sensibilizzazione 2016 la showgirl Elisabetta Gregoraci siamo allo sport calcio prima partita casalinga per lo sciacca nel campionato di prima categoria i neroverdi ospiteranno il Carini e sono chiamati subito alla vittoria dopo l'esordio negativo della scorsa settimana in promozione partite casalinghe per le due capolista Arese Menfi e Atletico Ribera c'è il servizio sarà uno sciacca chiamato subito al riscatto quello che scenderà in campo domenica pomeriggio contro il Carini partita valida per la seconda giornata del girone A del campionato di prima categoria i neroverdi hanno l'obbligo di centrare i tre punti dopo la raccomboleca sconfitta della scorsa settimana contro la nuova sportiva del golfo i seccensi guidati da Mario Putaggio al Gurrera sperano di poter contare sul sostegno del pubblico di casa per ottenere la prima vittoria stagionale nel torneo il calcio d'inizio è previsto per le ore 15 e 30 gli ospiti sulla carta non sembrano un avversario insormontabile la prima partita infatti l'hanno pareggiata in casa per 0-0 contro il Balestrate serviranno comunque 4 o 5 giornate per capire appieno le reali forze in campo e comprendere quali siano davvero le squadre più forti o scovare le eventuali sorprese il Ribera 54 invece andrà a Cinisi in quella che sarà la loro prima vera partita dopo che il primo match è stato sospeso per maltempo dopo pochi minuti in promozione quarta giornata di campionato partite casalinghe sia per l'Ars Menfi sia per l'Atletico Ribera la prima a scendere in campo domani sarà la squadra menfitana vera rivelazione del campionato i belicini ospiteranno al comunale il Canicattì formazione ostica che segue con due lunghezze di ritardo 9 contro 7 la doppia capolista i menfitani in tre partite non hanno subito ancora nessun gol e hanno messo in campo bel gioco, agonismo e la puntualità sotto rete del centravanti Galluzzo sulla carta match più facile per l'Atletico Ribera che attende la visita del Salemi al momento al penultimo posto con un solo punticino racimolato fin qui i crispini possono puntare su una coppia d'attacco di primordine soprattutto sul centravanti Carovana ex bomber lo scorso anno dell'Ars Menfi i padroni di casa non dovrebbero aver problemi ad imporre il proprio gioco e a far valere la legge del Nino Novara domani e domenica ad Alcamo si terrà il primo campus di judo promosso dal comitato regionale judo Sicilia obiettivo selezionare la squadra regionale in vista del quadriennio olimpico 2016-2020 presente anche la karate judo club di Sciacca con gli atleti Fabio Ingrando, Sabrina Alba, Giulia Giorgi Pieralba Alessi e Marco Russo ad accompagnare i ragazzi il maestro Pippo Piazza era l'ultima notizia del nostro telegiornale io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni